Una lettera del noto direttore dall'America. Buenos Aires, il 13 avrile 1935, affidati alla divina provvidenza, al cuore degli argentini e di ogni persona di buona volontà, si inizia anche qui in Buenos Aires, per nome di Dio e con la benedizione della Chiesa, una umilissima opera di fede e di carità, che ha il suo scopo di dare asilo, pane e conforto all'osse desemparados, gli abbandonati, che non hanno potuto trovare aiuto e ricovero presso le istituzioni di beneficenza. L'opera trova vita e spirito nella carità di Cristo e suo nome da San Giuseppe Cottolengo, che fu apostolo e padre dei poveri più infelici. La porta del Cottolengo non domanderà a chi entra se abbia un nome, ma soltanto se abbia un dolore. E Dio ama tutte le sue creature, ma non può non prediligere i miseri, gli afflitti, gli orfani, gli infermi, i tribolati d'ogni maniera, dopo che Gesù li elevò all'onore di suoi fratelli, dopo che si mostrò loro modello e guida, sottostando anche egli alla povertà, all'abbandono, al dolore e sino al martirio della croce. Il piccolo Cottolengo terrà le porte sempre aperte a qualunque specie di miseria morale e materiale. Ai disingannati, agli afflitti della vita, darà conforto e luce di fede. Distinti poi in tante diverse famiglie, accoglierà come fratelli i ciechi, i sordomuti, i deficienti, liebeti, storpi, epilettici, vecchi cadenti o inabili al lavoro, ragazzi scrofolosi, malati cronici, bambini e bambine da pochi anni in su, fanciulli nell'età dei pericoli, tutti quelli insomma che per uno o altro motivo hanno bisogno di assistenza, di aiuto, ma che non possono essere ricevuti negli ospedali o ricoveri e che siano veramente abbandonati. Di qualunque nazionalità siano, di qualunque religione, anche se fossero senza religione, Dio è padre di tutti. E' ovvio che tutto questo si fa in un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Il piccolo cotolengo non dovrà mai esserci un posto vuoto. Il piccolo cotolengo si regge sulla fede, vive della divina provvidenza, si governa con la carità di Cristo. E niente impiegati, niente formule burocratiche che spesso angustiano, seppur non rendono umiliante il bene. Niente che somigli ad un'amministrazione, nulla di tutto questo. Con i debiti, costruisce con i debiti come in Italia, una sfida, ne vada un po' dove. Anche in America ha costruito moltissime case. Ma verbi grazia, come? Come le pagherà? Bisognerà mettere un po' d'ordine. In silenza. Voi forse credete che abbiamo fondi e rendite? No, amici miei. Di tutto questo abbiamo meno che niente. Il piccolo cotolengo non ha redditi e non potrà mai avere redditi di sorta. Va avanti ogni giorno. Panem nostrum quotidiano. Questa è la cameretta di Don Orione. Era più o meno così anche quando è partito. Eccetto che ora c'è un po' di polvere. Don Orione era la seconda volta che andava nell'America Latina. Era già stato un anno, nel 1921 e il 1922, a trovare i suoi missionari, arrivati in Brasile già nel 1913. Anche in quella terra, e gli voleva essere strumento di bene con i suoi istituti, come aveva fatto in Italia, a favore dei più poveri e dei infelici, soprattutto di quelli che nessuno voleva accettare. Quasi ogni giorno arrivava una lettera dall'America. Scriveva sempre. Le leggeva in studio. O a cena qualche volta. Allora, noi al fettorio non era così. C'erano tanti chiedici con tanti tavoli. Sabato 25 si prenderà possesso del santuario e parrocchia di Itati, Corrientes. I nostri missionari le accompagnerà lo stesso vescovo che è figlio di Veneti, Monsignor Vicentino. E' venuto qui a prenderli e partono giovedì mattina. Fanno 36 ore di treno e poi 7-8 ore di navigazione sul fiume Paranà. Vanno sì nei confini dell'Argentina, di fronte al Ciaco e al Paraguay. Io, lunedì o martedì prossimo, andrò al Cile, fermandomi due giorni a Mendoza. Subito dopo il suo arrivo in Argentina, Don Orione posa la prima pietra del piccolo cotolengo a Buenos Aires. E' il 18 aprile del 1935. Ma di pietre Don Orione ne aveva poste tante nella sua vita. Aveva cominciato presto. Era ancora il chierico Orione Luigi di 20 anni, quando il 3 luglio del 1882 inaugurò il suo primo oratorio per i ragazzi di Tartone. La sede era imponente, l'uomo della città. Gli locali erano un po' angusti, ricavati nel sottotetto della novata centrale. Ma andavano benissimo per quel suo primo oratorio di San Luigi, dove si faceva catechismo, si studiava, ma anche si giocava, stando attenti di non disturbare la solennità delle cerimonie. La vivacità di tutti quei ragazzi era difficilmente contenibile, anche se il giovane chierico Orione faceva del suo meglio per tenerli quieti. Del resto anche lui era ancora un ragazzo. Aveva solo 19 anni ed era il primo a capire e scusare quella gioiosa vivacità. Però raccomandava, quando passate per la sacristia, salutate e proseguite buoni, buoni. Ma non sempre gli altri erano disposti a sopportare. Quel chierico non era certo un tipo normale, prima ancora della sua ordinazione sacerdotale, nell'aprile del 1895 aveva già aperto il suo primo collegio nel rione San Bernardino. E se anche non gli era rimasto più un soldo, si procurò ugualmente un registro per l'amministrazione. sopra le colonne delle entrate scrisse su quelle divina providenza, su quelle delle uscite divina providenza. Quieres, quam trattaturi estis, satis periculosa est, filii dilectissimi, Moneo rossi, estodinze intertotius missi ordinem, adque ostie consecrazionem, ac prazionem, eto conmigionem, ab aviissi iamadoptis sacerdotibus discatis. Avrò avuto otto o nove anni. Sulla siepe c'erano delle bianche campanule, quelle che popolarmente si dicono le campanelle, e ci siamo messi a coglierle. Anch'io ne presi una, e poi, come se fossi stato a servire la messa, feci istintivamente le mosse del chierichetto che suona. E con mia grande meraviglia sentì quel fiore di vilucchio mandare uno squillo. E certamente, quel suono gli rimase nella mente come un richiamo, anche quando, più grandicello, deve seguire il padre nel suo lavoro di silciatore. il padre nel suo lavoro di silciatore. E' una sera, lo spaccapietre Orione Vittorio legge la lettera dove gli comunicano che il figlio Luigi è stato accettato al convento francescano di Voghera. La storia è stata accettata al convento francesco. Dopo aver aiutato per qualche tempo il padre nel suo lavoro di serciatore, Luigi a 13 anni viene ricevuto al convento dei frati di Voghera dove potrà studiare e se riuscirà potrà diventare anche lui un francescano. Io non sognavo altro che la tonacella col cappuccio e il cordulo bianco. E invece dopo una grave malattia viene rimandato a casa per salute troppo cagionevole. L'anno dopo però venne accettato dai salesiani. E lì conosce Don Bosco che morirà due anni dopo. Si trasferisce allora al seminario diocesano di Tortona. dai compagni è considerato un originale, un poco strano. Raccoglie pezzetti di pane, anche quelli calpestati, e se li mette in bocca lasciando quello fresco della sua razione. O forse è un esibizionista, un simulatore di mortificazioni. Era nato povero. La madre lavorava in casa e nei campi. Abitavano come guardiani la piccola dimora di custodia accanto alla villa del liberale Rattazzi, a Ponte Curone. Mia madre mi sa mi, che era il quarto figlio, i vestiti del mio primo fratello che ha tredici anni più di me. E la povera donna quei vestiti li aveva fatti passare a tre altri prima di me. E ci ha cresciuti bene, all'onore del mondo come si dice. Tutti gli stracci li sapeva combinare e ci cavava dei vestitini e la famiglia triunfava nella povertà onesta e discreta. Che la povera vecchia contadina di mia madre si alzava alle tre di notte e via a lavorare. E pareva sempre un fuso che andasse. E sempre faceva e si industriava. Faceva da donna e con i suoi figli sapeva fare anche da uomo. Perché nostro padre era lontano a lavorare sul Monferrato. E per insegnarci a non sprecare il pane ci raccontava un fatto della vita di Gesù in cui si dice che egli scese da cavallo per raccogliere un pezzo di pane che era per terra. Nel Vangelo non c'è questo fatto, è ritenuto una pia leggenda. Ma otto o nove anni fa lessi i Vangeli apocrifi e lo trovai. I Vangeli apocrifi sono quelli non approvati dalla Chiesa, ma possono esserci dei fatti veri, benché non vi siano altre testimonianze. Ebbene, lì nei Vangeli apocrifi ho trovato quel che mia madre mi raccontava da ragazzo per insegnarmi a conservare quel che Dio ci dà. E diceva proprio come nostro Signore fosse sceso da cavallo tra la meraviglia degli apostoli che guardavano cosa facesse per raccogliere un pezzo di pane che era là, sulla strada, e se lo mangiò. Fra le grazie che mi ha fatto il Signore ho avuto quella di essere nato povero. Grazie a tutti. Qualcuno va a ricercare un grammofono? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Calma, calma, state cali. Sedete, sedete, sedete. Buenos Aires, marzo 1936. Ecco, sono tra voi, oh carissimi, con tutto il mio spirito. Non potendo ancora venire a ringraziarvi di persona delle vostre benevolenze e della carità che continuate ai miei poveri istituti durante la mia lontananza, mi è caro mandare a voi almeno la mia voce. Essa vi porta tanta parte del mio cuore e la espressione dell'eterna gratitudine. Io lavoro in umiltà ai piedi della Santa Chiesa, a dilatare le tende della carità di Cristo, a salvezza dei figli del popolo e di emigranti italiani e da conforto degli infelici più abbandonati. A Rosario di Santa Fe ho aperto ora scuole per più di 500 poveri fanciulli, la più parte figli di italiani. Ultimamente, poi, sono andato in Cile, a volo di più di 5.000 km sulle Ande e anche Santiago del Cile avrà domani il suo cottolengo. Sia gloria a Dio. Oggi vorrei essere un poeta e un santo per cantare il più bell'inno che si possa cantare sulla terra, l'inno della carità. Vi fu già un uomo che cantò quest'inno e ne scrisse le più belle e più alte parole dopo averlo attuato nella vita. San Paolo e gli echi di quella divina poesia sono giunti fino a noi, poiché a partire da Cristo la religione divenne ispiratrice di carità e con lei è talmente congiunta che cristianesimo senza carità sarebbe indegna ipocrisia. Un giorno Gesù, chiamando gli eletti alla sua destra, dirà a loro venite o benedetti dal padre mio. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. e mi avete dato da bere. Erano già tre anni che Don Orione era partito per l'America. Scriveva sempre ora vengo, ora vengo, ma non tornava mai. Qualcuno addirittura diceva che non sarebbe più tornato. Ma perché? Alla sua partenza per l'America la piccola opera della Divina Providenza aveva acquistato ormai importanze e dimensioni tali che, come spesso accade, aveva suscitato malanimo e malticenza. Le accuse poi provenivano dall'ambiente clericale soprattutto e in particolare da alcuni preti. si diceva che era confusionario, che faceva debiti facilmente, che era un imbonitore di vocazioni e un approfittatore che ambiva i lasciti di moribondi facoltosi. Io mi sono gettato in mare quasi come un giona nella speranza di salvare la povera barca della mia congregazione non dai debiti ma dalle onde di furiose persecuzioni. Già altra volta vi ho detto che quelli che cooperano la perfetta concordia della volontà e dei cuori sono nella carità e sono in Cristo che lo spirito della fraterna carità eviti tra noi la mormorazione. e dei cuori Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una sera d'estate radunarono tutti noi chierici nel cortile del paterno. Stava per arrivare in visita un personaggio molto importante. Bisognava accoglierlo con un bel applauso per fargli capire che era il benvenuto. Grazie. 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 Grazie a te. Grazie. 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 Grazie a te. Grazie. Buenos Aires, 22 luglio 1936, caro Don Sterbi, ma è per lei? Si, ma riguarda anche lei, lega, lega, lega voi. Grazie e pace da Nostro Signore. Vi mando l'ultima e definitiva redazione del capitolo primo delle Costituzioni. Resta abrogata qualunque mia forma antecedente. Primo, il titolo della congregazione è Piccola opera della Divina Providenza. Il fine particolare e speciale è di propagare la dottrina e l'amore di Gesù Cristo e della Chiesa, specialmente nel popolo. E ciò mediante opere di misericordia spirituale e corporale e le seguenti istituzioni, destinate sia all'educazione e formazione cattolica della gioventù più umile e derelitta, sia a condurre le turbe a Gesù Cristo e alla sua Chiesa, per le vie della carità. Oratori festivi, patronati. Dopo scuola esternati, pie associazioni, centri e circoli di associazione cattolica per fanciulli, istituzioni per uomini cattolici e patronati operai, scuole e collegi, sempre per fanciulli poveri, scuole agricole, professionali, commerciali, industriali, magistrati. La Madonna della Fogliata Molto tempo fa era soltanto un rudere. Don Orione era ancora un bambino, avrà avuto 9-10 anni. Una sera d'inverno, quando i contadini si riunivano nelle stalle per stare al caldo, sente parlare di un piccolo santuario dedicato alla Madonna in mezzo alla campagna che stava cadendo in rovina, anzi, che era già quasi del tutto diroccato. Più tardi mi confidò che quella notte non riuscì a dormire al pensiero che la Madonna non avesse più la sua casa. Intanto quella stessa notte aveva anche nevicato. Così il mattino dopo, quando sale sul solaio del cascinale per tentare di scorgere lontano i ruderi della chiesola, come aveva sentito raccontare, non vede che neve. Allora si mette in cammino e va in cerca per i campi, per qualche chilometro, fino a che non riesce a intravedere gli ultimi tronconi del muro ormai quasi del tutto nascosti dalla neve. Allora ti inginocchiavi davanti e chiede alla Madonna la grazia di diventare sacerdote e lui ricostruirà la sua casa con l'aiuto di Dio. Ma come vede, ha mantenuto la promessa. Ne deve avere fatte molte di promesse con tutto quello che abbiamo visto in questo viaggio. e dubito che siano concluse le promesse di Don Orione. La presenza del visitatore apostolico presso la congregazione era destinata a durare anche dopo la morte di Don Orione, per molto tempo. Eppure, per diversi aspetti, questa presenza provocata dalla malevolenza ed imposta dall'alto per vederci chiaro nell'operato di Don Orione e della sua congregazione finì poi per dimostrarsi di vera utilità nel definire e migliorare compiti ed istituti. Lo stesso fondatore, attraverso l'esperienza che andava maturando in quelle terre d'America accettava ed apprezzava la collaborazione del visitatore apostolico. Confesso che avrei dovuto fare molto, molto di più e ne chiedo perdono al Signore. Tante volte ho sentito Gesù Cristo vicino a me tante volte l'ho come intravisto, Gesù, nei più reietti, nei più infelici. Mentre vi scrivo mi giungono qui le notizie più dolorose della Spagna e penso perché il mondo è tanto sconvolto, perché è tanto infelice e va precipitando nella barbarie. perché vedete coloro che sono nati nella stessa terra, che parlano la stessa lingua, che hanno lo stesso sangue, che provengono dalle stesse famiglie, coloro che dovrebbero amarsi, aiutarsi, confortarsi, si dividono, si odiano, si massacrano barbaramente. Oh, triste verità, tristissima realtà, sotto gli stessi nostri occhi. Non ai ricchi, ma ai poveri, ai più poveri al popolo, mi ha mandato il Signore. Ed ora finirò, e mi scusi la lungaggine, eccellenza, mi permetta di pregarla di lasciarmi qui più che può. E se Dio la ispirasse di lasciarmi qui per sempre, perché così fosse il bene mio e della piccola opera, mi lasci qui per sempre. Omi interni, mi getti dove è meglio che crederai in domino, che sarò sempre felicitissimo in domino. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. Dopo tre anni di assenza, Don Orione si prepara la salita del Sud America e ha affaticato la sua salute eminata. Oh, sento che sono vecchio, ma mi assicuro che sto bene, è il cuore che fa i suoi scherzi, è il diabete, sto a regime e sto bene. La sua salute sarà il Sud America e ha affaticato la sua salute eminata. Oh, sento che sono vecchio, ma mi assicuro che sto bene, è il cuore che fa i suoi scherzi, è il diabete, sto a regime e sto bene. Il 3 gennaio comincia il giro delle visite. Nessuno ne parla, ma tutti sentono che egli non tornerà più. Solo raramente, nelle parole di congedo, da una tappa all'altra, si lascia sfuggire. In quei pochi anni, Don Orione e i suoi sacerdoti avevano dato vita a numerose opere e attività. Un cotolengo a Claipole e a Vellaneda. Una casa di noviziato a Lanus. Al centro di Buonas Aires, la casa Carlos Pellegrini. Una parrocchia di Nostra Signora della Providenza, un collegio e una parrocchia a Vittoria. Quindi il collegio di Santa Caterina a Tre Salgarrobos. La casa della Beata Imelda e un asilo infantile. Ancora il collegio e la parrocchia di San Giuseppe a Cuenca. L'obra San Giuseppe e il collegio della Sagrada Famiglia a Mar del Plata. Il santuario e le scuole di Itati. Il collegio e la casa parrocchiale a Rosario. Una casa per suore a San Miguel. Due case a Mendoza. Due case a Santiago. E una sede per aspiranti vicino a Valparaiso, in Cile. Un noviziato in Uruguay. E ancora opere in Brasile, a Rio, a San Paolo. Mar del Plata, 17 marzo 1937. Eccellenza reverendissima, Don Sterpi le avrà parlato che si è messo un piede nel centro del ciaco, data l'insistenza di due vescovi e dell'annunziatura, per la necessità di quelle anime. Ho accettato con riserva, quando tutti avevano rifiutato. Ho pregato un po', forse troppo poco. Credo che gli altri non abbiano accettato, e per il caldo insopportabile, e per la grande povertà. Ma noi vogliamo essere poveri, e per i poveri. Ho pensato che se Vostra Eccellenza fosse stata qui, mi avrebbe data la benedizione. Ed ho pensato a tutte quelle anime, e a Gesù. E che mia madre mi diceva che in mancanza di cavalli trottano gli asini. E noi siamo proprio gli asinelli della provvidenza, o almeno desideriamo esserlo. Se sapessi di stare qui, le chiederei io di andare al ciaco per morirci. Cioè per consumarmi e vivere davvero missionario. Cioè per consumarmi e vivere davvero missionario. Cioè per consumarmi e vivere davvero missionario. Se impegna, è città di circa 20.000 abitanti, con altri 10.000 sparsi nel contado, a distanze enormi. La più parte dei ragazzi sono figli naturali, moltissimi sono da pattezzare. Quando si arriva a sposare le figlie, si cerca di sposare anche le madri. La corruzione dei costumi, dato poi anche il clima, è spaventosa. Ho mandato là un sacerdote lombardo di 50 anni, un vero angelo, cresciuto fin da ragazzo da noi, alla divina provvidenza. La gente vive male, muore senza assistenza. Ho accettato subcondizione, perché mi sentivo l'anima lacerata e ricordavo le parole del Santo Padre. Non fermatevi nelle città, ma andate nell'interno, dove pochi o nessuno va, perché non c'è guadagno. Qui il ciaco è ritenuto peggio che la Patagonia. I mercanti che arricchiscono di beni terreni e che per il cotone la ricchezza stanno là. E non ci sarà il sacerdote per le anime, per i poveri. Don Contardi, il sacerdote lombardo, cresciuto alla divina provvidenza, era stato mandato a San Spena da Don Orione e in pochi mesi era riuscito a concludere un grande lavoro. Ha rifatto e ingrandito la cappella, le panche nuove, ha sistemato le tre stanzette che sono tutta la sede della parrocchia per più di 30.000 anime. Deve assistere alcune colonie di indiani distanti oltre 100 chilometri in una zona abbandonata, detta la pampa del diavolo. Vive in povertà totale. E quando al momento dell'incontro, abbracciandolo con affetto, Don Orione gli chiede «E tu?» Don Contardi risponde «Io sono perfettamente felice». Il caro nostro Don Contardi e nel salutarlo forse per l'ultima volta ho sentito nel cuore ciò che la lingua non può esprimere. Da Sempegna a Resistenzia e quindi verso l'interno, attraverso campagne selvagge, piccole villaggi dalle case bianche e basse, fino a Corrientes e infine al santuario di Itati. Era particolarmente felice di essere arrivato a quella casa di Maria e, come lui la chiamava, l'avamposto più lontano della sua congregazione. Aveva celebrato la messa a mezzanotte, una messa davvero di grande devozione. Prima di ripartire, Don Orione ci salutò. Parlava con la voce sommessa. «Parto per l'Italia», disse. «Forse non ci vedremo più». In attesa che il battello attraccasse, ricordo che, essendoci in forte vento, Don Orione si ritirò dal riparo dietro una barca rovesciata che stava lì, lungo la riva. Quando poi la nave si mosse, Don Orione faceva dal ponte cenni di saluto. Penediceva. «Così lo vedemmo sparire lungo le acque del fiume, su quel piccolo ponte che si allontanava sempre più rapido». «Così lo vedemmo sparire lungo le acque del fiume». «Così lo vedemmo sparire lungo le acque del fiume». «Sì, è il paterno. Come? Non capisco. Sì, sì, dica a Napoli. Stamattina? Sì, ho capito. Al santuario di Pompei. Al santuario di Pompei. Sì, sì, ricordo tutto. Adesso riferisco immediatamente. È arrivato, è arrivato! È sbarcato a Napoli stamattina! È arrivato l'Oriode! La prima prima! È una nave partita il 5 agosto da Buenos Aires. Sono 18 ore di viaggio. C'erano molte persone soltanti, l'ambasciatore e molta autorità argentina. Sì, sì, era molto conosciuto. pronto si paterno chi ho capito stiamo aspettando anche noi si da napoli è partito per roma silenzio per favore le ultime notizie sono andato a salutare i nostri studenti e gli amici siamo in attesa ma ormai che credo che fino a domani non chiameranno più senz'altro appena sapremo qualcosa il resto io andate pure voi intanto si era sparsa la voce che don orione sarebbe ritornato la sera del 26 agosto era tre anni che era in america e quindi la gente aveva piuttosto desiderio di rivederlo e si stava completando qui le preghiere alla funzione della madonna della guardia della novena il giorno prima era stato a celebrare la messa nell'istituto di vin salvatore delle sette sale dove c'erano gli studenti nostri poi era partito e la sera si era fermato a parma a parma soprattutto perché gli premeva conoscere il visitatore e soprattutto avvicinarlo perché non l'aveva mai visto era mai parlato don orione voleva evitare un ritorno a tortona eccessivamente vistoso e qualsiasi trionfalismo nei suoi confronti così cercava in tutti i modi di rallentare il viaggio sapeva che tutti lo aspettavano al santuario della madonna della guardia e allora con il pretesto di salutare il fratello si trattenne a casa di lui fin quasi alle 10 di sera certo che ormai a quell'ora finita ogni funzione tutti si erano già allontanati quando ormai notte giunse al santuario erano rimasti pochi chierici e a quel punto non si trattenne a lanciare loro un piccolo segnale venga sveglia è arrivato don orione mi raccomando grazie a tutti grazie a tutti la preghiera è elevazione è voce delle nostre speranze le ore del mattino ci portano il dono di saper pregare ed è nella meditazione cioè nella riflessione sopra le grandi verità morali e teologiche che si schiudono le sorgenti dell'animo è nel mattino prima di ogni altra distrazione e comunicazione con gli uomini che bisogna pregare e ascoltare Dio che parla para le anime lavora in noi plasma il nostro spirito vivifica rischiare nasce allora in noi un grande desiderio la volontà di riformarci quanto si arriva la volontà di riformare È l'elevazione, è voce delle nostre speranze, le ore del mattino ci portano il dono di saper pregare ed è nella meditazione, cioè nella riflessione sopra le grandi verità morali e teologiche che si schiudono le sorgenti dell'animo e nel mattino, prima di ogni altra distrazione e comunicazione con gli uomini, che bisogna pregare e ascoltare Dio che parla, ara le anime, lavora in noi, plasma il nostro spirito, vivifica, rischiara. Nasce allora in noi un grande desiderio, la volontà di riformarci, lavoro, preghiera e temperanza, ecco ciò che farà fiorire davvero la nostra cara congregazione, preghiera, lavoro e temperanza, che significa pietà, sacrificio e mortificazione. In queste tre virtù c'è tutta la nostra vita e non c'è altra vita all'infuori di questa, non c'è altra via per farci santi, non c'è altro modo, né miglior modo di amare e servire Dio, non c'è altra via per servire e salvare le anime. E sempre lieti in domino, con gioia grande, diffondendo bontà e serenità su tutti i nostri passi e nei cuori delle persone che incontriamo. Il loro toglie di Varabba. È un oratorio di Varabba. Cosa si può pretendere da ragazzi che sono cresciuti senza timore di Dio? Conosciamo bene le loro famiglie, gente che non è mai andata in chiesa. La colpa di Chierico è di quel Chierico di Rion perché raccoglie tutti i peggiori. Se è così da Chierico, cosa sarà da prete? È giovane e non ha esperienza. È giovane. A quel punto Monsignor Bandi, l'escovo di Tortona, fu costretto per tacitare tante proteste, a sospendere ad Attempus l'oratorio che lui stesso aveva concesso al giovane Chierico Rione solo pochi mesi prima, assegnandogli addirittura due stanzoni del palazzo Vescovile e una parte del giardino. Il Chierico Rione era davvero disperato e allora decise di scrivere una lettera alla Madonna e di deporla ai suoi piedi. Carissima e veneratissima madre, che non hai mai abbandonato nessuno, non abbandonare questo tuo povero e ultimo figlio. Non ne posso proprio più. Siamo abbandonati e calunniati da tutti. Da me non posso andare avanti. Se tu non vieni, io mi affogo con i miei giovani. Ecco, ti prendi la chiave dell'oratorio. Io ti porgo la chiave. Ti consegno le anime dei giovani che mi hai affidato. La mia missione è finita. L'asino vola. Il fringuello vola. Il passero vola. Il corvo vola. Il pinguino vola. La rondine vola. Il palco vola. La cingallegra vola. Il tacchino vola. Noi adottiamo il sistema di educazione cristiana usato con tanto felice esito dal santo Don Bosco, mio confessore e mio padre in Cristo. Metodo sabio, detto sistema preventivo, che vuole essere da noi praticato scorpolosamente per esercitare un'efficace influenza sul cuore dei nostri alunni. Ma esso non dice tutto. Non mi pare completo. Non più sufficiente. O da tutti non così sufficientemente attuato. Il nostro sistema lo chiameremo paterno cristiano. Farsi più amare che temere. Ottenere tutto per amore e niente per forza. Il Vangelo è il più sublime trattato di didattica e di pedagogia che esista. Era tornato dall'America con una grande fretta di fare. Infatti, come è scritto in una nota biografica, in quei giorni vari stimoli confluivano sulla sua attività, quasi presagisse la necessità di riassumerla in alcuni punti fondamentali. La visita apostolica, la prospettiva dell'approvazione pontificia alle costituzioni dell'opera, le direttive anche più recenti della Santa Sede per la formazione culturale dei seminaristi secolari e regolari, la visione più vasta, riportata dall'estero, dei bisogni anche intellettuali che il Ministero Sacro impone nel mondo che cammina. Viaggiava da una casa all'altra della congregazione a sorreggere o a incoraggiare nuove iniziative. Come lui diceva, andava a piantare nuovi picchetti. L'ampliamento del piccolo cotolengo milanese, l'inaugurazione della grande casa San Filippo Neri a Roma e a Genova la creazione di due nuove sezioni del piccolo cotolengo. Andava puntualmente il martedì a Milano e il giovedì a Genova, gli altri giorni rimaneva nella sua cameretta, scriveva e riceveva gente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso che è finita l'ora di studio, io vi canterò la canzone di Pasqualone, che per tanti anni è stato il cuoco della nostra casa. Certo, io non sono bravo a cantare come era Pasqualone e sono anche un po' stonato. Comunque... alla montagna, la neve al fiocca, ma noi staremo della cucina a mangiare la polentina, la polenta a cui io sei, le ho mangiare da po' a retti, ma che bel piacere sarà... vedo che a cantare vi ha messo in buona disposizione d'animo e sono quasi tentato di cantarvela un'altra volta. No, perché... prima, quando sono entrato, mi ho visto tutti un po' immusoniti. Ma noi non siamo mica trappisti, noi siamo i gaudenti della carità. Non si può fare del bene tenendo il muso con la malinconia. Se volete fare del bene e trarre specialmente i giovani al servizio del Signore, dovete invece cercare di imitare la santa e serena piacevolezza e ironia di un riponeri di un San Francesco di Sales, del Cotolengo, di Don Bosco. Noi dobbiamo sempre progredire, aggiornarci, valerci di tutto il meglio che ci offrono la scienza, la letteratura, la teologia, la storia, le arti, sia sia di antico che di nuovo. Perché la Letizia è di grande aiuto per entrare nelle vie del Signore e progredire verso la salvezza. Qui ci vuole una banda, una una banda musicale, sì. Chi di voi conosce un po' di musica? Eh? Lui, lui. Lui, nessun altro? Chi conosce un altro? Chi? Anche tu? Solo voi due? Eh, vabbè non importa, non importa, si impara. Eh? E gli strumenti? Si trovano. Il 31 marzo del 1939 era andato ad Alessandria per controllare i lavori di costruzione della scuola d'arti e mestieri che nasceva con i fondi che una benefattrice aveva lasciato alla piccola opera di Don Orione. Poi, mentre stavamo attraversando Piazza Marconi, ho capito che Don Orione stava male. Corsi in un bar per procurarmi qualcosa di forte, un cordiale, ma lui rifiutò. Diceva, a casa, a casa, a Tortona. In via Roma chiesi a un farmacista di fargli un'iniezione, ma costui consiglia invece di chiamare un'ambulanza. All'ospedale dicono, se l'aveste portato a Tortona, sarebbe morto per strada. La mia veste, la mia veste, per favore. Eccellenza. I medici e gli amici dovettero imporsi per trattenerlo in ospedale almeno qualche giorno. Lui ripeteva spesso, San Benedetto morì in piedi, in pieno lavoro. È la speranza più bella. Faticare, faticare, faticare bisogna. Perché fuggire alla fatica sarà forse senza ricompensa, diceva Don Bosco. Dio ha comandato all'uomo di lavorare. Noi dobbiamo essere grandi lavoratori. I lavoratori dell'umiltà, della fede, della carità. Grandi lavoratori delle anime. Ma che dico lavoratori? È troppo poco. Dobbiamo essere i facchini di Dio. Non basta a noi solo il pregare, solo lo studiare, ma anche bisogna sfacchinare da un Ave Maria all'altra, pensando prima agli altri e poi a noi. La pace non è nell'inerzia, ma nella carità operosa e nel sacrificio. E se vogliamo oggi lavorare utilmente al ritorno del secolo verso la luce e la civiltà, al rinnovamento della vita pubblica e privata, è necessario che la fede risusciti in noi e ci risvegli da questo sonno che poco è più che morte. È necessaria una grande rinascenza di fede e deve essere una fede applicata alla vita. Di fede dobbiamo riempire tutte le arterie umane, tutte le vie del mondo. Manca la fede in quelli che bisogna salvare, ma talora manca, e con quanto dolore lo dico, manca ovimeno anche in me e in altri di noi che vogliamo o crediamo di voler salvare le folle. Siamo sinceri. Perché non rinnoviamo la società? Perché non abbiamo sempre la forza di trascinare? Ci manca la fede, la fede vera. Si apre il sipario su una tragedia di cui non possiamo prevedere le dimensioni. Noi viviamo nella fede e crediamo che sopra tutti e soprattutto c'è il Signore che guida i popoli e che regge le nazioni, specialmente nei momenti più burrascosi della loro storia. Opponiamo ai cannoni i rosari e teniamo le mani giunte contro le mani che impugnano le armi per uccidere. La preghiera è sempre stata la forza dei deboli. I carri armati di Hitler percorrono l'Europa. In quel settembre del 1939 anche la Polonia viene invasa. Don Orione vuol benedire nel santuario della Madonna della Guardia i suoi chierici polacchi che partono per tornare nella loro patria. Il mio cuore è trepida per voi, figli miei cari. E piango con voi. Ho fatto stendere la vostra bandiera sull'altare. Passate e baciatela. E sia questo bacio il bacio di Dio sulla vostra patria. E la promessa che sarete sempre degni figli della Chiesa e devoti su di Dio della vostra terra. E la promessa che sarete sempre più grande. Il limite non è nel cuore di Dio. Alla fine di settembre di quello stesso anno Don Orione ottiene la prima udienza del nuovo Papa. Il Papa, dai nostri chierici. Bisogna trasmettere subito un telegramma. Grazie di avermi avvertito. Mi butto sul primo treno... Ma l'incontro di più grande consolazione verrà un mese dopo quando Pio XII, al rientro da Castel Gandolfo, saluterà gli alunni del Pontificio Istituto San Filippo Neri. Porta San Sebastiano, dove verrà l'incontro con il Papa e proprio a due passi dalla parrocchia di Onisanti. I nomi di questi luoghi riportano ad anni lontani, all'inizio del secolo, quando un'altra volta Don Orione andò a Roma chiamato dal Papa San Pio X. Appena mi vide, non mi ha neanche dato il tempo di fare la genuflissione e mi ha detto preparati, che ti mando in Patagonia. La Patagonia era un quartiere fuori Porta San Giovanni, dove c'era tutto da fare. sembrava davvero di stare in missione, mancava perfino la chiesa. Entro otto giorni disse devi aprire una cappella. Qualche giorno dopo presi in affitto una stalla, una scuderia per cavalli, per farne una cappella. Siccome non aveva nulla di esterno che dicesse di essere una cappella, essendo stata prima una stalla, come fare a chiamare la gente? Allora mi sono riempito tutti i tasconi di soldini e di caramelle. Poi ho dato di piglio a un campanello che avevo con me e ho cominciato a attraversare tutte le strade del quartiere. Con una mano spattacchiavo il campanello e con l'altra lasciavo cadere dietro a me le caramelle e di tanto in tanto qualche soldino. Più mi avvicinavo alla chiesa e più gente veniva dietro e faceva coda. Qualcuno sentivo che diceva a quel prete deve essere un po' matto. E siccome chiacchieravano e facevano baccano, allora in silenzio mi misi a muovere la bocca senza proferir parole e facevo dei gran gesti oratori con le mani e alzavo gli occhi al cielo e allargavo le braccia. Feci come quella volta che ho fatto il discorso ai muti della lungara. Che gesticolavo, gesticolavo, gesticolavo ma non proferivo una parola. Quella prima cappella ricavata dalla stalla divenne poi la parrocchia Donisanti è proprio lì a Porta San Sebastiano dopo tanti anni in un tardo pomeriggio d'estate il popolo di quella parrocchia e 1200 dei suoi allievi del San Filippo Neri sono in attesa del saluto del Papa che sosterà tra loro. a Grazie a tutti. 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 Tutto è grande quando grande è il cuore di chi dà. Grazie a tutti. Cristo non aveva soldati, non ne volle avere mai. Non sparso il sangue di nessuno, non abrucciò la casa di nessuno. Non volle inciso il suo nome sulle roccia dei monti, ma nel cuore degli uomini. Questo re non fece del sole. E' la nessuno fece del bene a nessuno. non cercò seguito. e che beato sarà il cuore di noi, e che beato sarà il cuore, e che beato sarà il cuore. guardate a tutti. Grazie a tutti. Don Orione si era ripreso e appena fuori pericolo lo trasferirono in un'altra stanza detta dell'orologio, proprio a parete con la cappella. Il professor Manai, primario dell'ospedale di Alessandria, gli aveva imposto di non muoversi e assoluto riposo. Qualche giorno dopo, Don Orione vuole scrivere ai suoi figli d'America, ma il medico gli ha impedito anche il minimo sforzo. In infermeria, dice, ho visto un tavolino con la mensola mobile. Portatela su, così potrò scrivere anche stando a letto. A tutti i miei cari, della divina providenza del Sud America. La grazia del Signore e la sua pace siano sempre con voi. Ritornato in Italia, subito avevo sentito vivissimo il desiderio di scrivere una lettera che fosse rivolta non solo a questo o a quello, ma direttamente a tutti. Ho scritto bensì più volte a parecchi di voi, ma ciò non soddisfaceva appieno il bisogno del mio cuore di potermi. Ho ancora piena la mente e il cuore della vostra bontà per me durante tutto il tempo che ho passato con voi. Ho sempre davanti a me le vostre persone e sento di portarvi tutti nel cuore. La lontananza non ha per nulla rallentato il sacro vincolo della carità che ci unisce, anzi mi fa sentire più vivo, più dolce. Direi più santo il sentimento della spirituale paternità che a voi mi lega e mi legherà in eterno. Don Orione voleva celebrare la messa, diceva di sentirsi meglio ed ebbe il permesso di alzarsi. Era il 20 febbraio, le 5.30 del mattino, un mattino freddissimo. Era ancora debole e si prese una bronchite. Il professor Manai, che aveva nuovamente visitato il malato, disse a Don Sterpi So che avete due delle vostre case a Sanremo. È la Providenza. Bisogna mandarlo là. Il clima qui a Tortona è ancora freddo e umido. Un soggiorno in riviera gli farà bene. Non vuole andare a curarsi. Non vuole andare a Sanremo a curarsi. Dice che se è la fine dei suoi giorni, allora vuole andare a morire fra i poveri, nella casa più povera della congregazione. Che dobbiamo fare? Che cosa possiamo fare? Dovrei per arrivare in un momento. Che dobbiamo fare in un momento. Che dobbiamo fare in un momento. Che è la fine. Che dobbiamo fare in un momento. Sono venuto a dirvi che ci è cara la vostra salute, a tutti quanti, ai vostri fratelli della congregazione, ai vostri poveri, a tutti gli ospiti degli istituti bisognosi ancora di voi, al Santo Padre e se lo permettete anche a me, che sono qui a pregarvi di un nuovo atto di obbedienza per il bene di tutti e almeno per una volta anche per il vostro. Il 6 marzo è la festa di San Marziano, il patrono di Tortona e a mezzogiorno Don Orione vuole scendere il refettorio con noi chierici. Grazie. 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 C'è l'unciaire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il canto di Dio che da anni mi passa nell'anima, nella mente e mi ferisce il cuore e mi fa vivere e morire di un fuoco ardentissimo. E mi fa esclamare, oh amore di Gesù, oh amore dolce ai piccoli e ai poveri di Gesù, oh amore, oh morire d'amore. Venerdì 8 marzo, ultimo giorno prima della partenza, vuole andare a salutare il suo vescovo. Perché tanta fatica? Eccellenza, tocca a me salire da lei. Non avrei potuto partire per Sanremo senza ringraziarla dell'ordinazione. La mattina dopo il vescovo avrebbe ordinato undici diaconi della nostra congregazione. E' povera della mia veste. Non ce la fa proprio più come la mia vita. E quando le forze ci mancano e la vita se ne va, la più grande consolazione per noi anziani è quella di guardare a voi. E di lasciarvi il Vangelo, la croce, la stola, l'altare, tutto. Tutto, tutto. Tutto, tutto. Sono venuto a darvi la buonanotte. E sono venuto anche a salutarvi. Perché a Dio piacendo domani dovrò partire. Per poco, per molto, non so, forse anche per sempre, se così piacerà al Signore. Nessuno più di me vede che la mia vita, questa vita, è ormai ridotta alla fine. E che tutti i momenti possono essere gli ultimi. E' già una misericordia di Dio, se sono qui a parlarvi. Ora, mi vogliono mandare a Sanremo perché pensano che là, quell'aria, quel clima, quel sole, quel riposo, possano essere di qualche giovamento a questo poco di vita che ancora mi rimane. Ma io... Io non voglio vivere tra le palme. Anzi, se potessi esprimere un desiderio, direi che non voglio vivere e morire tra le palme, ma tra i poveri, che sono Gesù Cristo. E perciò andarmene senza salutarvi mi sembrava una cosa ripugnante. Ripugnava a me e poteva forse dispiacere anche a voi. Dunque mi scuserete, miei cari, se sono spiacente, ma non potrò essere con voi domattina alla prima messa. La prima Grande Madre è Maria Santissima. La seconda Grande Madre è Maria Santissima. Grazie. 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 questa piccola ma pur grande è la nostra cara congregazione e dunque io vi dico addio figlioli i miei diletti pregate per me e io vi porterò sempre sempre sull'altare con me grazie 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 grazie